Laudetur Iesus Christus Ave Maria Cari amici e cari fratelli nella fede, questo briefing è molto sofferto, ma è necessario. Si intitola Bestiario Episcopale perché purtroppo, dallo scoppio della pandemia del coronavirus, i nostri vescovi, con alcune lodevole eccezioni, hanno dato il peggio di loro. Hanno più volte tradito il mandato che hanno ricevuto dal nostro Signore Gesù Cristo di governare, ammaestrare e santificare il gregge. Ci riferiamo in modo particolare a quello che è successo proprio in questi giorni. La nuova bussola quotidiana, il 20 aprile del 2020, ha dato notizia che in una parrocchia della diocese di Cremona, durante la messa di suffragio celebrata dal parroco Dollino Viola, è accaduta una profanazione gravissima. In una chiesa di 500 metri quadri, alla sola presenza di 13 persone, dei carabinieri sono saliti sull'altare al momento dell'orate frates, quindi mentre si stava entrando nel momento più sacro, nel Sancta Santorum, cioè alla consacrazione eucaristica, sono saliti sull'altare imponendo al parroco di interrompere la celebrazione. Dollino, ottantenne ma energico, con tutta quella forza che viene dallo Spirito Santo, non c'è stato. Ha continuato la celebrazione della Santa Messa e ha fatto scendere i carabinieri dall'altare. Un abuso di potere gravissimo, lo ha definito Dollino. Vi sono i filmati. Ma chi ha fatto il signor vescovo di Cremona, Monsignor Antonio Napolioni, tra l'altro che ha ricevuto la grazia dal cielo di guarire dal coronavirus, ha scaricato, abbandonato il suo presbitero? In una nota sempre del 20 aprile, la diocese di Cremona, che è stata anche pubblicata dal quotidiano della conferenza episcopale, la Pravda della CEI, cioè Avvenire, la diocese di Cremona fa sapere che non può non sottolineare con dispiacere che il comportamento del parroco, cioè di Don Lino, è in contraddizione con le norme civili e le indicazioni canoniche che ormai da diverse settimane condizionano la vita liturgica e sacramentale della Chiesa in Italia e della nostra Chiesa cremonese. Quindi questo vescovo che ha avuto la grazia dal cielo, ripetiamo, di guarire dal coronavirus, anziché difendere il suo presbitero, che non ha fatto altro che fare il suo dovere di sacerdote, cioè di fare una messa di suffragio e di difendere la sacralità della Santa Messa, si è chinato al potente di turno, all'ordine civile, a Cesare. E non è stato l'unico Monsignor Napoleone a farlo, perché proprio il 19 aprile, quindi il giorno prima, il portale nordest24.it riportava la notizia che un parroco della diocese di Pacenza, Don Pietro Cesena, ha detto ai suoi parrocchiani, non abbiate paura di venire a messa, non pagate le multe, quello a cui ci hanno messo di fronte anticostituzionale, è qualcosa di oppressivo. E lo ha detto a quei pochi parrocchiani che erano presenti lì in parrocchia durante la messa. E al termine della celebrazione è arrivata la polizia, agenti in borghese della questura di Piacenza hanno raccolto elementi che serviranno per successivi accertamenti. Che cosa ha fatto il vescovo di Piacenza? Monsignor Gianni Ambrosio. In un comunicato ha fatto sapere che ritiene doveroso ricordare a tutti la necessità di osservare le misure di sicurezza che la conferenza episcopale italiana ha comunicato e più volte ribadito, sempre in stretto contatto con il Ministero dell'Interno e con la segreta di Stato della città del Vaticano. Capite? La messa non conta più niente, ciò che conta è un'altra divinità. Paciamama? Anche, ma anche lo Stato. I nostri vescovi si sono inchinati allo Stato. La conferenza episcopale, lasciando che fosse il governo a decidere quando e come aprire o chiudere le chiese, ha lasciato che la chiesa diventasse come la chiesa patrioteca pandestino, cioè un ente di Stato, qualcosa che appartiene allo Stato. E i vescovi naturalmente non hanno niente da dire. E non solo, per il messaggio del primo maggio, per il giorno del lavoro, che per noi cattolici è dedicato a San Giuseppe Artigiano, hanno fatto un comunicato che fa appunico la realtà, spiega il professor Stefano Fontana, esperto di dottrina sociale della chiesa. Perché questo comunicato, questo documento intitolato Il lavoro in un'economia sostenibile, già quindi si adotta il linguaggio secolarizzato, si leggono tutte le tesi che vanno di moda nella chiesa moderna, nella nuova chiesa, come per esempio la sostenibilità, il riscaldamento globale, l'immigrazione e la ridistribuzione della ricchezza, proprio quando invece il coronavirus, questa pandemia, ha dimostrato la loro consistenza. Ma l'ideologia e l'utopia sono dure a morire. Del resto, Stalin cosa diceva? Io voglio che sia così, se i fatti mi danno torto, tanto peggio per i fatti. Questa è l'ideologia. Ma ormai i nostri vescovi, dicevamo, sono in preda al delirio ideologico. Tant'è vero che per esempio il vescovo di Modena, Don Erio Castellucci, chiamiamolo Don perché se lo chiami Monsignore si arrabbia, fine e apprezzato teologo moderno, il 25 aprile celebrerà in Duomo con tutte le autorità civili, a cominciare dal sindaco, il dio partigiano, perché il 25 aprile sarà il 75esimo anniversario della liberazione. E come se non bastasse, i nostri vescovi continuano imperterriti a cercare di prendere in giro il cielo. Il presidente della conferenza episcopale italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti, al civescovo di Perugia, ha reso noto che il primo maggio, a Caravaggio, in provincia di Bergamo, ma nella diocese di Cremona, proprio nella diocese dove è venuta la profanazione di quella chiesa, il sacrilegio compesso da quei carabinieri durante la Santa Messa, quasi al momento della consagrazione, la conferenza episcopale italiana affiderà l'Italia intera a Maria. Non consacrerà l'Italia a Maria, ma la affiderà. Si continua, vedete, ancora a sfidare il cielo. Perché non si può fare una consagrazione? No! Andrebbe conto il minimalismo mariano tanto caro a questo pontificato? A Maria si può fare un affadamento, non una consacrazione, perché lei è solo madre, ma madre nel senso come figura materna, non madre reale. È una discepola, la prima delle discepole, ma sempre è una discepola. Quindi al massimo si può fare un affidamento, non una consacrazione. Ecco, allora, io mi domando, scusate il tono indignato, ma si può continuare così a prendere in giro il cielo? Il 7 ottobre del 2019 è stata portata in processione, venerata e adorata, in Vaticano, la pace a mamma, il 7 ottobre, la festa della regina delle vittorie, vi ricordate la battaglia di Lepato, nostra signora del rosario e la festa di nostra signora del rosario. L'epidemia del coronavirus è diventata mondiale nel febbraio di quest'anno, a un anno esatto dalla dichiarazione di Budabi, quando un vicario di Cristo ha firmato un documento che di fatto abbiura la vera fede. Ma lo vogliamo capire che il cielo non può essere preso in giro? Il 27 marzo Papa Francesco ha sì fatto una richiesta al cielo che fa cessare la pandemia, ma anche lì il cielo è stato preso in giro. E sapete perché? Perché ancora una volta ha ritenuto che il coronavirus fosse la ribellione della terra al nostro abuso della casa comune, non per la profanazione, la biura e l'adorazione di false divinità che sono state commesse, no, ancora si continua a durare la madre terra, la casa comune. Ma vi rendete conto? E questa, mettiamocela in testa, è una punizione dal cielo. E tutto questo sta avvenendo proprio durante il pontificato di un gesuita. Dobbiamo metterci in testa, e dobbiamo dirlo, perché la compagnia di Gesù ha donato la Chiesa a tanti santi e tanti martiri e tanti fedeli, che Papa Francesco, Karl Rahner, Henri de Lubac, Pedro Arrupe, non sono delle pecore nere che hanno tradito la compagnia di Gesù. No, purtroppo, l'intera compagnia ha tradito lo spirito del fondatore. E questo è l'ovidenza dal fatto che nel 1972, per i cento anni in cui l'ordine della compagnia fu consacrato al Sacro Cuore, invece l'allora preposto generale, l'allora Papa Nero, Pedro Arrupe, rinnegò la consacrazione della compagnia al Sacro Cuore e al Cuore Immacolato di Maria. Tant'è vero che il primo che disse no a Maria non si può fare una sua consacrazione, ma al massimo un atto di affidamento, fu un gesuita, Juan Alfaro. Insomma, vogliamo finirla di prendere in giro il cielo? Di denigrare la nostra amata corredentrice, Maria? Vogliamo smetterla di adorare false divinità come la Pachamama e il Abu Dhabi? Ci vogliamo mettere in ginocchio davanti al Santissimo Sacramento e implorare perdono per i nostri peccati? E tornare a difendere la vera fede? E questo noi lo diciamo con dolore, prima di tutto al Papa e ai Vescovi, ai nostri pastori. E non lo facciamo per spirito di disobbedienza, ma proprio per obbedienza. Scusate, non aggiungiamo altro perché l'indinazione è grande e non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, soprattutto ai nostri legittimi pastori che noi amiamo. Preghiamo e soffriamo per loro, ma prima di tutto preghiamo e soffriamo per la nostra amata Santa Madre Chiesa. Tanti peccati sono stati commessi contro la Santissima Trinità, contro la Santità della Chiesa, contro tutti i dogmi mariani, dal primo all'ultimo, compreso quello della corredenzione. E guardate che il coronavirus è il primo avviso. Che cosa vogliamo fare? Affidarci sì a Maria, ma come? Consacrandoci a lei, al suo cuore immacolato, perché così non si può andare avanti. Imploriamo quindi la Santissima Vergine, la nostra Avvocata, la Mediatrice di tutte le grazie, la Corredentrice del genere umano, che abbia pietà di noi e ci benedica e che ottenga dal suo figliolo, vero Dio e vero uomo, nostro Signore Gesù Cristo, il perdono dei nostri peccati. Ma dobbiamo fare penitenza e dobbiamo farne parecchia. Quindi desideriamo di consacrarci al cuore immacolato di Maria. Invochiamola e imploriamola con la bellissima preghiera di San Bernardo. Ricordati, Opeissima Vergine Maria, di non essersi mai sentito al mondo, che chi è ricosto al tuo aiuto, chi ha implorato il tuo ausilio, chi ha chiesto i tuoi suffragi, è stato senza nulla inascoltato. Animata da questa fiducia, io vengo a te, O Vergine delle Vergine, a te ricordo, O Madre, vengo a te, dinanzi a te, mi prosto peccatore gemente. Non voler, O Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascolta le propizia ed esaudiscile. Così spero e così sia. Amen. Laudetur Jesus Christus. Ave Maria. Così spero e così sia.